Viva la manovra di stabilità per quello che non c'è. Siamo a una apologia di questa manovra perché non ci sono i 3 miliardi e mezzo di tagli alla sanità. Questo soddisfa il Partito Democratico, rende tutti quanti felici, consente di dire che siamo finalmente a un'inversione di tendenza perché berlusconianamente si dice non ci sono nuove tasse. Il Paese reale in questa retorica scompare completamente. È una legge che cerca di stabilizzare il governo e non di stabilizzare il Paese, che non offre nessuna risposta strutturale ai problemi drammatici della nostra economia, che continua a tassare drammaticamente, a tassare il pubblico impiego. Dove sono le giovani generazioni? Siccome sono il centro della crisi, persino antropologica, della nostra società, in questa manovra di stabilità, dove sono i giovani? Siamo di fronte al terzo anno consecutivo di trionfo della propaganda. La propaganda che è una cortina fumogena che cerca di occultare il volto reale del Paese. L'Italia continua a star male, non per la crisi di allora, ma per la crisi generata dalle politiche di oggi. Le risorse non ci saranno mai se non si contestano i parametri che vengono imposti dalla cosiddetta Europa, da quella pessima Europa che si presenta in forma di ragioneria autoritaria. Amici del Partito Democratico, smettetela di evocare la crescita come se si trattasse di un mantra, come una specie di abracadabra, senza indicare nelle politiche di fondo che vengono costruite, assunte qui e ora, la contraddizione rispetto al fatto che non c'è nessuna idea della crescita, non c'è nessuna risposta sul crollo delle produzioni industriali e della realtà dell'industria in Italia. Io credo veramente che se qualcosa di fondo si depositerà nell'esperienza dei governi Monti e Letta e resterà nella memoria collettiva, è questa strabiliante operazione tecnica di uso della propaganda. La tecnica ha surrogato la politica, oggi la propaganda cerca, diciamo così di occupare tutto lo spazio dell'immaginario. Fuori dalla propaganda c'è il dramma delle giovani generazioni, c'è la tragedia di un paese che si impoverisce, ci sono interi settori sociali che non hanno ossigeno da troppi anni, su questo noi alzeremo in queste aule la nostra voce di opposizione.